buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di londra che mi chiede dottore ho provato di tutto per dimagrire per tornare il mio peso ideale pesavo 60 kg quando avevo 20 anni adesso peso 110 kg ho provato tutto diete ho letto libri sono andato in palestra mille volte mille discipline poi sono tornato indietro perché perdevo la voglia cosa mi consiglia con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola io gli ho consigliato che finché non toglie l'immagine subcosciente inconscia che lo fa ingrassare tutto sarà inutile ed esiste un audio mp3 molto potente naturale dcs dal titolo ipno dieta che ti fa dimagrire alla velocità della luce senza quasi fare nulla ti prego non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto provare 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 e meravigliarti del potere della tua mente premesso ciò rifletti un attimo perché una persona ingrassa dalle mie esperienze dirette indirette una persona ingrassa ci sono varie cause che soltanto il tuo subconsciente conosce d'accordo parti da questo presupposto io non conosco nulla tranne che guidare il tuo subconscio a scoprire quali sono le vere cause però rifletti un attimo la paura della morte fa ingrassare la risposta è sì 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 perché fa ingrassare la paura della morte seminata dalla tv covid dalla tv paura intendendo per tv anche i social la radio i mezzi di comunicazione di massa i mass media perché perché l'essere umano nell'arco dei secoli è passato da vacche magre a vacche grasse da carestia periodi di abbondanza quindi che cosa succedeva se osservi anche il mondo animale che l'uomo quando aveva da mangiare ingrassava per poi dimagrire quando c'erano periodi di carestia e questo a livello subcosciente è registrato la nostra memoria profonda ce l'ha registrato quindi all'epoca quando si mangiava in periodi di abbondanza perché non si sapeva mai se succedeva il periodo di carestia l'anno dopo si mangiava perché inconsciamente si aveva paura di morire della morte anche adesso nella nell'africa più nera esistono popolazioni che ingrassano per poi dimagrire la stagione dopo quando non c'è nulla da mangiare o quasi il meccanismo ragazzi è lo stesso per cui se io ho o percepisco a livello subconscio una paura immaginaria perché di fatto non c'è reale pericolo di morire ma il subconscio ricordati l'88 per cento della tua mente non distingue la cosa vera dalla cosa immaginata ed esegue la lettera i tuoi ordini le tue istruzioni che ogni tuo desiderio un ordine dice il genio della lampada di aladino bene ti porterà a mangiare a mangiare come se quasi quasi volesse farsi delle riserve delle riserve di grasso per non morire anche se la paura non è altro che una paura trasmessa dalla tv poi ci sono altre ragioni per cui uno mangia ad esempio il marito la moglie non lo guarda lo dà per scontato quindi inconsciamente diciamo non mi vede più non mi vede più non mi vede più ogni tuo desiderio un ordine quindi fa allargare così non può sfuggire alla vista di tua moglie o di tuo marito ce ne sono tantissime altre cause subconsce che la tua ragione non conosce il fatto che tu non te le spieghi non significa nulla amico mia amica mia quindi se tu vuoi veramente anche senza fare sessione online di prosi dcs con il sottoscritto che al momento sono sospese puoi scaricarti quest'audio molto potente e naturale dcs unico al mondo e ti meraviglierai del potere della tua mente dell'improsi dcs vera e professionale con la b maiuscola fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.imprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autiprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio e un abbraccio amico mio e amica mia e conclusioni delle conclusioni attento a ciò che dice ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita questa bellissima frase l'ha detta nel 1100 dopo cristo san francesco d'assisi e non aveva studiato l'ipnosi ok pauca intelligentibus poche parole alle persone intelligenti un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima